giocava con lilla con lilla giocava il napoli l'ha preso il napoli l'ha preso victor james osiman nato a lagos il 29 dicembre del 1998 attaccante del napoli e dalla nazionale nigeriana è un mostro è famelico un attaccante straordinario dall'illa l'hanno preso non l'hanno preso dal celsi come abram abram sembra la copia l'ombra di di osiman sembra un uomo piccolo così a confronto di osiman lo vedi giocare è straordinario se lo se lo mangia il campo è un aratrice è un aratro è un aratro simen ma come hanno come ha fatto il napoli a scoprirlo questo calciatore ha giocato col bosburg bosburg scusate la pronuncia charlerois e poi con lilla della nigeria ragazzi e della nigeria per carità con tutto rispetto per la nigeria ma non è che stiamo parlando di dell'inghilterra e dell'olanda della francia dell'argentina del chi più ne ha più ne metta della nigeria ragazzi questo è un fenomeno questo fra un po di tempo arriverà ai livelli di levandoschi di benzemà di di aland di mbappé stiamo quasi lì lì e ci stiamo quasi è uno che fa che fa gioco va a destra a sinistra non sta mai fermo davanti ai difensori alla difesa avversaria fa sponda gioca di testa non si risparmia mai è un leone è un leone ragazzi io guarda sono non dico invidioso ma quasi perché avere un calciatore così è un quid in più ragazzi è qualcosa è qualcosa di più che una squadra può avere quella cattiveria agonistica agonistica perché sportivamente parlando è un signore è un signore osimen ma in campo ci mette quell'ardore quella quella foca che anche se non sei tifoso del napoli io sono tifoso della roma come sapete però queste cose si notano perché ha giocato un po a pallone io ho anche giocato un po a pallone a livello dilettantistico però qualcosa percepisco qualcosa vedo e lui è un trascinatore è un trascinatore che anche se la squadra non sta giocando bene lui si dà da fare rientra fa gioco da una mano anche al centrocampo a me poi fanno ridere i tifosi delle altre squadre anche della roma anche dalla roma che hanno la puzza sotto il naso ma a me sinceramente non piace non te piace di che come fanno un piacere osimen scusate ragazzi lo sfogo come fanno un piacerti osimen perché vedi mbappé ma non tutti si possono chiamare mbappé non tutti possono avere i soldi per prendere mbappé perché mbappé prende l'ira di dio non so quanto prende 200 milioni l'anno osimen neanche una briciola di mbappé prende e siamo quasi lì e non dico che che è quasi uguale a mbappé ma poco ci manca ragazzi se questo continua così perché è un è un treno gioca in mezzo al campo e non lo prendono mai ragazzi non lo prendono mai se gli dai poco poco di spazio lui ti purga ti sorpassa poi dentro l'area di rigore un goleador non fa passare un pallone non è sempre in allerta a del filippo inzaghi però parliamo soltanto del dal punto di vista della reale realizzazione vi ricordate bippo inzaghi che non toccava una palla durante la partita non la prendeva mai appena gli capitava un'occasione la buttava subito dentro e così anche osimen però a confronto di inzaghi osimen è un gran bel giocatore è fisicamente strutturato ha una potenza fisica indescrivibile e quindi ragazzi io devo fare i complimenti a chi l'ha preso penso l'abbia preso giunto io non lo so chi l'ha preso però è stata una scoperta positiva positiva anche per quanto riguarda il calcio italiano perché avere un calciatore così in italia non è non è da tutti perché lui se li mangia tutti ragazzi non c'è blauic non c'è lautaro ecco giusto un po leao però leao mi pare un po' troppo è bravissimo è bravo leao un po' troppo così all'acqua di rose invece lui è un è proprio un animale scusate la parola un animale ci mette proprio il fritto in campo con la maschera vedete gioca con la maschera si spacca si è fatto l'altrano si è spaccato pure la fascia le mandibole lui non 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 si risparmia non si risparmia ed è una una marcia in più per il napoli che oltre a lui poi fortunatamente il napoli anche cavarastelia a lozano a elmas appolitano sempre gli stessi discorsi ragazzi il napoli e lo vediamo tutti la squadra che è una squadra inarrestabile però io volevo fare questo video soprattutto per osy man che se lo merita ragazzi se lo merita perché un giocatore che dire spettacolare a me piace non sarà molto a qualcuno non piace tecnicamente ma che te frega tecnicamente ma che dei van basten ne esistono ne esisteranno uno della vita nella vita van basten che è stato la massima espressione della tecnica di un centravanti italiano ce ne rimane uno uno ragazzi osy man invece è uno dei futuri calciatori attaccanti diciamo più forti secondo me d'europa e vedrete se non è come dico io e quindi napoli non so se riuscirà a trattenerlo perché io penso che st'altro anno si presentano quei mamma lucchi a roma si chiamano mamma lucchi e chi ce l'ha i sordi per osy man sono ben spesi va bene ragazzi questo video finisce qua se ti è piaciuto lascia un like se non ti sei iscritto al canale iscriviti mi farebbe piacere e attiva la campanellina ci vediamo alla prossima ciao da enrico caffarelli a proposito seguimi anche su instagram enrico caffarelli tutto minuscolo su instagram ciao alla prossima